Maddalena Corvaglia nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 gennaio 1980 e alta 1 metro e 68 centimetri. Showgirl e conduttrice ha raggiunto il successo come bellina bionda di Striscia la Notizia insieme ad Elisabetta Canalis. Ecco 5 cose che forse non sai su Maddalena Corvaglia. Ha il diploma di maturità classica e ha sempre adorato studiare filosofia. Nel 2007 ha posato per il calendario sexy della rivista Max. Con l'amica Elisabetta Canalis ha aperto a Los Angeles un'attività legata al fitness, una palestra con centro fisioterapico. È stata sposata per sei anni con lo storico chitarrista di Vasco Rossi, l'americano Steph Burns. Il rocker stesso celebrò il loro matrimonio. Sulla schiena ha un tatuaggio che recita la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.